Oh, eccoci ritornati qua. Ok, voi state andando qua. Voi state andando qua. Qui stiamo riattestrando. Direi che... ...si può passare il turno. Anche perché ho 18 di monete, quindi... ...ci posso fare ben poco. Va bene. Ok, Anjou prova di nuovo ad attaccare questa città che non mi ricordo il nome. Viene nuovamente respinta. E ci riprova con un altro esercito. Il dobbiamo di Bretagna. Va a commerciare o a trattare. L'Aquitania riagruppa le forze. Eh sì, anche loro provano a riprendere la città ribelle. Che se non avessi i tedeschi che mi tengono impegnato ci sarei andato io. Allora, le fiandre. Sì, niente. Le fiandre qui si muovono. Notizie, vediamo. Allora. Vorrebbe sposarsi. Ah, il comandante di guarnigione. Comandante di guarnigione? Sarà questo qui? È leale. È un cristiano cattolico. Più uno al morale delle truppe, più uno sicurezza personale. Non capisco se è un più o un meno. Se è un positivo o un negativo. Passarlo provinciale. 28. Balduino. Ma potrei accorparlo a questi, effettivamente. Se è lui, giustamente. Penso sia lui. No, non era lui. Ah, però sta qua. Balduino Brabant. Ok. Questo non mi piace. Un'inondazione. Sì. Un'inondazione in Portogallo. Alenteio. O come si pronuncia. Vediamo. Tu sei entrato a far parte della famiglia. Famiglia, sì. Beh, un generale in più fa sempre comodo. Allora. Ah, qui mettiamo un attimo in pausa. La situazione. Abbiamo fatto dei mercenari a Trier. Abbiamo registrato a Treveri. I sergenti. Stiamo facendo adesso il reclutamento di questi. Costanza. E' nata Costanza. Di chi, però? Mjonstera è in guerra con l'Inghilterra. Ok. Pensavo fosse una nave di qualcuno. Ha rotto l'alleanza con il Papato, la Polonia e Bremen che stava qui mi pare. Quindi questi qui sono alleati. Allora, come sempre, prima facciamo i diplomatici. Mon roi. Sì, tutto suito. Ok. Poi abbiamo questo che lo vorrei lasciare un attimo qui in Germania, ho detto. Questo è Magdeburgo, la Sassonia. Beh, un giretto almeno a sud me lo posso fare, no? Tanto per vedere. Eh, questo è un territorio, penso sia... La Baviera, più o meno. Comunque. Allora, questi se ne sono andati. Il che è positivo. Mi piacerebbe avere delle spie, ma devo ancora sviluppare molte città. Allora, qui avevamo questo. Se faccio questo guadagno un emissario. E un mercante. Mi costa 2000, però sono disposto a investirli. Ok. Qui potrei fare una taverna. Altre 1500. Questi stiamo facendo quattro turni. Eh, diciamo che... Ok, qui stiamo facendo questi. Orleà non è che sia molto felice. Quindi magari potrei fare... Diciamo, questo mi annulla questo. Mi costa 1000. Questo è 1500, quindi facciamo prima questo. Ok. Me ne rimangono 665. 665. Per poco non faccio la torre. Torre che poi andrebbe fatta. Considerando che noi stiamo qua. Diciamo qui. Questa zona qua. Qui verso il fiume. Eh sì, ecco, vedo il trattino. Ah, infatti sono scappati. Walter Beckett. Eh, il signor Walter Beckett mi potrebbe servire per provare a fare un trattato di pace con l'Inghilterra. Credo, no? Guadagniamo 3275. Questo è un problema. Questo va bene qua. Allora, li potremmo prendere tra due fuochi, effettivamente. Ok. Eh, 8-10. Credo che questi sono arrivati a un punto in cui lasciarli divisi è inutile. Già 18 è meglio. I due generali sì, mi servono. Così ho almeno tre cavallerie. Eh, lui ne ha due. Sei arcieri. E quattro fanterie. Eh, allora prendiamo tutti adesso. Per modo di dire, perché giustamente... Sacrifichiamo questi 42. Sacrifichiamo. Mettiamoli al guarnigione. Attacchiamo. Siamo 10-9-19. Contro 14. Sì. Ok, questi li controlliamo noi. Bugapeto e Filippo di Francia, insieme a Balduino di Brabante, contro il signor Filippo von Habsburg di Habsburg. Asburgo, ok. Molto bene. Allora, siamo sulla difensi... Siamo sull'attacco, in verità. Quindi, ci sono i guadi come sul caro vecchio Rom, no? Ci dovrebbero essere... Penso questo sia un guado. Allora. Bugier! 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 Questi li mettiamo così. Questi così. Bugier! Questi per di qua. Già facciamo un gruppo. La teniamo qui, la cavalleria. Iniziamo la battaglia. Sì. Arrivano i rinforzi. Perfetto. Vengono a combatterci. Ah, ho lasciato una cavalleria qui. Allora, voi mi avanzate, ma marciando. Allora, voi mi avanzate, ma marciando. Quanto meno questi sono più decenti, i terciari. Beh, beh, beh. Proverei a respingere questi. Dov'è la mia cavalleria? Allora, vediamo se riesco ad attraversare il fiume. Allargiamo i ranghi. No, a quanto pare solo questo è... Credo, eh, perché io qui vorrei... No. Il guado non c'è. Peccato. Eh, ci ritroviamo un po' bloccati, allora. Certo, non è il massimo, quindi per adesso i ranghi è allargati. Eh, pausa, gentilmente. Ok. Allora. Caridiamo. Andiamo che rinforzi. Ehm, voi, e voi. Ok. Allora, cavalleria, ripiega. Voi attaccate. Sfondiamo. Teniamo la posizione. Anzi, voi. Andate per di qua. Eh, vabbè, questi. Ok, qui. L'abbiamo sfondato di brutto. Carichiamo, carichiamo, carichiamo. Resistete, voi. Ok, questo no. Ah, c'è, voi. Fugier, fugier. Ok, questi li abbiamo messi in fuga. Attacchiamo questi. Cavalleria, tiro front. Continuiamo, li massacriamo. Ok. Ok, 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 molto bene Il generale è qua Dovrebbe essere lui Fatelo fuori Oh, quasi Chiappalo, chiappalo, chiappa e non lo chiappa più Finiamo questi Finiamo questi Questi sono fuggiti E direi che possiamo andare... ok Quello è un fiume di cadaveri? No Eh, 296, effettivamente sì, ho perso un bel po' di truppe È rimasto con una, due, tre, quattro, cinque unità Quanti ne ho recuperati io? 22, questo va bene 11, che non è male Ok Ok, da un certo punto di vista buono perché... Allora Eh, non è che siano messe molto bene tutte queste unità, eh? Queste però Si raggruppano Ok, 53 già è meglio Queste vanno bene così Ok, sì, ho sbagliato a muovere le truppe Ok Sì Oddio, forse, forse Il prossimo turno ci mando questo, sì Sei turni Questo va bene così Questo, sì, lo spostiamo per di qua Abbiamo preso uno standardo Ok 70, un po' così Però va bene Ok